Pietro Baratta, match winner a Trivento, 24esimo gol stagionale per te, vittoria pesantissima, traguardo dell'eccellenza ormai ad un passo per il Fortour. Sì, manca veramente poco al rush finale, alla vittoria che ci porterà per la prima volta nella massima categoria dilettantistica e siamo felici. Sicuramente la vittoria di oggi ha dato tanto, ci ha messo quel mattoncino in più per arrivare in cima, insomma. Ecco, era iniziata male con il gol inizio ripresa, siete stati bravi a non disunirvi, a ricaricare le batterie e avete poi fatto il sorpasso. Sì, sento, abbiamo trovato un trovore, un Trivento abbastanza ben organizzato, che combatteva su ogni pallone, ci ha concesso un po' all'inizio, che non abbiamo sfruttato le occasioni concesse, però poi anche il Trivento comunque è cresciuto, ha trovato il rigore, poi siamo andati in pareggio e poi siamo andati comunque in vantaggio. Ma faccio i miei più sinceri complimenti al Trivento per l'atteggiamento che ha avuto oggi. Ventesima vittoria stagionale, te lo aspettavi all'inizio stagione? No, non te lo aspettava nessuno. Siamo partiti obiettivo playoff con una squadra che con la stessa intelaiatura dell'anno scorso, come ne ho promosso, non ci avrei scommesso un euro che saremo comunque a quel punto oggi, però sicuramente è frutto di un lavoro che abbiamo coltivato già dall'anno scorso, grazie anche al mister e alla società che stanno sempre dietro a noi, non ci fanno mancare nulla. Per San Bartolomeo sarà un traguardo storico, felici ovviamente di averlo regalato. Sì, sì, sicuramente sono orgoglioso, siamo orgogliosi tutti insieme, però non voglio cantare vittoria, diciamo quanto è matematico, però siamo quasi vicino. Domenica arriva la Isernia, ostacolo duro da superare. Sì, infatti sarà una bella partita combattuto, c'è l'Isernia, una squadra che comunque sta mettendo in difficoltà parecchie squadre della zona alta della classifica, si è visto ieri con lo spinete, quindi ci prepareremo al meglio la partita senza sottovalutare l'avversario.